Caro Dio, o chiunque sia in ascolto, temo per il mondo e per le cose che accadranno in futuro. Forse la mia generazione sarà l'ultima a vivere serenamente su questo pianeta. So che fai già tanto per noi, ma ti prego, ascolta la mia ultima preghiera di oggi. Tanti bambini e adulti soffrono in Africa ogni giorno per malattie, fame e la guerra. Ti prego Dio, fai qualcosa, qualunque cosa. Qualunque, eh? Grazie a tutti i nostri spettatori del canale su Patreon. Ciao!